e questi come sapete sono giorni intensi di presentazioni nuove figure all'interno del club bianco verde ma come sempre non rubo la parola al presidente paris che adesso vi presenterà il nuovo team manager della prima squadra pasquale palleschi in realtà veronica ruba sempre lo spazio del presidente ma a lei piace dire il contrario scherzo veronica fatti un po sorridere pasquale palleschi team manager della prima squadra esperienza assolutamente nuova pasquale nella vita di tutti i giorni è un bancario e nella vita vicina allo stadio temarsi è un tifoso dell'avezzano calcio i rapporti tra me e pasquale palleschi nascono tanti anni fa rapporto di stima di fiducia di goliardie varie e poi ecco la mia proposta in questa stagione di portarlo dentro la casa bianco verde e fargli assumere un ruolo che tra l'altro essendo un uomo con camicia e giacca di regola è sempre così tutti i giorni si è quello forse più adatta a lui quello di fare il team manager della della prima squadra che ne pensi e come vivi questa nuova carica questa nuova didascalia sotto una tua foto quando ovviamente l'andrea a vedere dopo io intanto ti inizio ringraziandoti per questa per questa opportunità e non vedo non vedo ora di iniziare per me è la prima esperienza però parola d'ordine lavoro con con la l maiuscola e cercherò di fare il meglio per essere un ottimo collante tra quello che è lo staff tecnico la squadra e la società come vedi ecco la situazione attuale ci tenevo a farti esprimere un parere visto che tu sei sempre abbastanza critico e quindi mi piace anche come se stessimo parlando da soli ma senza le telecamere le telecamere di Manuel Conti ecco come come vedi questo momento che stiamo vivendo e secondo te qual è la strategia da adottare beh un momento abbastanza un momento abbastanza particolare veniamo da da una pandemia quindi credo che dalla seconda guerra mondiale insomma questo sia stato il periodo un po che nessuno si sarebbe mai aspettato mai aspettato di dire e però è anche vero che va visto il bicchiere mezzo vuoto e quindi da momenti come questo dobbiamo cercare di prendere quel poco di buono e andare avanti e cercare di ricominciare anche meglio di prima se possibile e la veste ecco di team manager sì l'hai metabolizzata oppure tanti non sanno che noi a volte di pomeriggio a volte di notte all'osservio dei marzi abbiamo chiacchierato nella nella zona della tribuna pietra acquari e quindi ecco questa questa tua nuova figura quanto sarà importante per pasquale palleschi come uomo perché poi il bancario lo lasciamo da parte la processione io no io spero intanto di di essere di essere importante per la per la società vezzano calcio che ribadisco per me è un onore far parte entrare a far parte di questa di questa famiglia e dal punto di vista dell'uomo credo che potrà solo portare degli accrescimenti sia umani che lato lato professionale e mi auguro ecco che pasquale possa avere qualche problema importante nella gestione di giocatori importanti ancora in via ferrara perché veniamo dalle difficoltà di mesi in salita ma sono convinto che riusciremo nonostante quello che è quella che è la situazione dal punto di vista economico a costruire una squadra all'altezza e soprattutto ecco una struttura organizzativa che sia di primo ordine quando si è professionisti dentro forse quel professionismo può arrivare fuori e quindi è questo che mi auguro la ringrazio come sempre presidente se non c'è altro da aggiungere sembro quasi un giudice in questo momento sì ma perché le piace essere la donna che intermedia che gestisce l'addetto stampa la donna lo vedono tutti quindi ringraziamo il presidente paris come sempre diamo il benvenuto ufficiale in bianco verde a pasquale palleschi in bocca al lupo per tutto il lavoro grazie grazie a tutti